Ciao a tutti sono Marco Casario e benvenuti a questo nuovo video, di nuovo lo registro in macchina mi scuso in anticipo per la qualità audio e video non eccellente ma come al solito mi piace tenerci compagnia mentre mi sposto sono di ritorno tra l'altro da un evento decisamente molto molto fico e c'ho ancora il cartellino attaccato si chiama Data Driven Innovation è un evento in collaborazione con l'Università di Roma 3 fatemi togliere il cartellino che altrimenti sembro un cretino è stato molto interessante, track molto interessante appunto su tematiche Big Data e quindi gestione dei dati in particolare uno degli ultimi talk a cui ho partecipato era un panel in realtà con tre speaker sulla blockchain e sul bitcoin è stato molto molto interessante bene, di che cosa voglio parlarvi però oggi? oggi voglio parlarvi della... a che cosa serve, come uso l'analisi tecnica molto spesso mi viene domandato infatti ma l'analisi tecnica come la utilizzi nel tuo trading perché sì è vero, faccio trading usando analisi tecnica Fibonacci Trading e Pattern Armonici e soprattutto per valutare i movimenti futuri del mercato quindi come il mercato si muoverà nel prossimo movimento però lo faccio con entrate dirette al mercato quindi sell o short in vendita o in acquisto a seconda del pattern che si è verificato delle strategie molto precise, meccaniche su questo e in base al tipo di pattern che si verifica so quando devo entrare, quando devo uscire in perdita e quando devo uscire in profitto queste strategie sono frutto ovviamente del backtesting fatto nel passato però un utilizzo che faccio dell'analisi tecnica è anche per valutare le entrate e le strategie con le opzioni che sono uno strumento finanziario magnifico e quindi utilizzo anche segnali di analisi tecnica pattern di analisi tecnica per scegliere poi qual è la strategia migliore da applicare con le opzioni al fine sempre di crearmi sapete voi uso il trading per crearmi un'entrata aggiuntiva costante e continuativa nel tempo bene le opzioni sono uno strumento magnifico perché sono uno strumento che richiedono poco margine e quindi anche se avete capitali piccoli potete fare opzioni opzioni di ragazzi non binarie perché sapete non sono assolutamente un fan delle opzioni binarie quindi potete usare le opzioni vi richiede poco margine non solo ma potete quindi aprire più segnali durante il mese io utilizzo anche tanto le opzioni settimanali soprattutto sui mercati azionari sui mercati azionari con le opzioni settimanali potete avere opportunità all'interno della settimana e quindi nel mese avere più segnali e più opportunità che potete sfruttare quindi sono un ottimo strumento anche per questo per avere trade di breve termine e poi con alcune strategie con le opzioni pensate potete aumentare drasticamente la percentuale di profittabilità che cosa vuol dire? vuol dire che di solito voi dal mercato guadagnate dalle operazioni che mettete sul mercato guadagnate se il mercato si muove nella vostra direzione se siete in vendita in sell guadagnate se il mercato scende se siete in buy in acquisto guadagnate se il mercato sale quindi perdete nel momento in cui il mercato non si muove da quella posizione se ritraccia e va nella direzione opposta ci sono strategie invece in opzioni che vi fanno guadagnare praticamente il 66% delle volte cioè se il mercato non si muove lateralizza se il mercato prende una direzione o se si sposta poco nella direzione contraria quindi perdete solo nel caso in cui vi giri totalmente contro e prenda la direzione opposta alla vostra quindi per questo sono uno strumento che a me piace tantissimo e l'analisi tecnica la utilizzo anche per questo e nell'analisi tecnica di questa settimana voglio farvi vedere un paio di esempi sul mercato azionario e sul mercato delle materie prime di come uso i pattern di analisi tecnica classica i pattern armonici per opportunità che poi sfrutto con le opzioni fatemi sapere anche che cosa ne pensate se già usate anche voi questo strumento finanziario magnifico lasciatemi un commento sotto a questo video qui sul mio blog scrivetemi anche un'email se volete magari approfondisca anche questo sul canale youtube sto lanciando un percorso proprio dedicato al mondo delle opzioni bene che altro dirvi se non lasciarvi all'analisi di questa settimana noi ci vediamo prestissimo la prossima ciao a tutti e buon trading ed eccoci qua ai grafici di questa settimana allora partiamo un po' dagli indici azionari perché ragazzi stanno veramente facendo le fiamme come si suol dire partiamo dall'S&P 500 ma vedrete che la situazione è molto simile anche se andate a guardare il root ovvero il Russell 2000 se andate a vedere il Nasdaq quindi prenderò un po' l'S&P 500 come esempio per raccontarvi quello che sta succedendo sul mercato azionario facendo riferimento proprio a questi indici che altro non sono che dei panieri allora guardate qui che cosa era successo sull'S&P 500 era successo che ci eravamo incastrati in questo canale che praticamente era cominciato nel 2014 guardate come i prezzi non hanno fatto altro che usare queste due strutture statiche come appunto un canale di rimbalzo e quindi usavano come resistenza la struttura superiore e poi come supporto quella inferiore ci hanno rimbalzato una volta due volte tre volte quattro volte cinque volte sei volte quasi sette volte otto volte qui ha provato a rompere qui stavamo a inizio o meglio stavamo a luglio 2016 poi è rientrato dentro quindi l'ha usata in realtà questo è stato un pullback e infatti qua se vogliamo vederlo dal punto di vista di analisi tecnica qui abbiamo una flag che è stata rotta in maniera forte con questa candela qui guardate qui che spike era il 7 novembre del 2011 qui eravamo nella settimana delle presidenziali rottura e impulso rialzista che praticamente non si è mai fermato ha rallentato un pochino qui ma veramente poco ha formato questo piccolo triangolo wedge direi di continuazione del trend rialzista che è stato rotto e adesso sull'S&P500 siamo ai massimi storici ragazzi perché oggi praticamente ha toccato i 2400 l'ha sentito subito dalla soglia psicologica un attimo tornato indietro ma qui ci troviamo di fronte al classico treno in corsa e se andate a leggere i forum o leggete anche un po' poi i quotidiani che parlano di finanza da Bloomberg al Financial Times e così via c'è chi chiede per quanto tempo ancora potranno crescere i mercati il mercato azionario americano quando arriverà il rallentamento quando ci sarà un pullback guardate qua praticamente ha fatto una, due, tre, quattro, cinque, sei settimane di trend rialzista senza mai fermarsi sei settimane sono quasi due mesi interi quindi insomma non parliamo di poco senza avere nemmeno una candela rossa di così indecisione ebbene qui ci sono molti trader che stanno aspettando il pullback ci sono anche molti trader che hanno operazioni aperte in short e stanno aspettando quindi in sell e stanno aspettando che finisca questo rialzo ma la verità è che nessuno sa quando finirà potrebbe ancora continuare per tanto potrebbe arrivare a puntare 2,5 e oltre quindi sempre importantissimo non raccontarsi una storia che non esiste quindi non farsi una propria opinione ma guardare quello che sta succedendo sul grafico vi faccio vedere anche passiamo all'Europa andiamo a vedere anche come ha risposto il Fuzzi l'FTS 100 quindi passiamo in UK l'indice UK ne avevo parlato credo un paio di settimane fa vi ricordate che cosa vi avevo detto guardate ci sono ancora i disegni di qualche settimana fa vi avevo detto questo poteva eravamo qua in questa fase questo potrebbe essere un pullback per un nuovo impulso rialzista e il Fuzzi proprio questo ci sta facendo vedere ha creato il suo massimo storico ha rotto questo massimo che aveva creato a inizio 2017 lo ha rotto quindi ne ha creato uno nuovo e sta puntando alla struttura successiva quindi guardate qua che bella continuazione del trend qui primo impulso rialzista ritracciamento secondo impulso rialzista doppio minimo nuovo impulso rialzista ritracciamento e qui ci possiamo aspettare guardate copio in collo quella gamba ci possiamo aspettare un bel ABCD pattern fatemi anche vedere qui con Fibonacci dove potrebbe arrivare intorno tra il 141 e il 161 eccolo qua eccolo qui perfetto infatti si va a appoggiare guardate che armonia di movimento sarebbe e ci sta tutto quindi sta rispondendo bene anche l'azionario inglese il Fuzzi 100 è appunto il paniere è l'indice azionario inglese delle 100 aziende più capitalizzate e andiamo a vedere un po' anche che sta succedendo in America ma dal punto di vista del dollaro americano allora andiamo a vedere l'indice quindi non andiamo sul mercato valutario ma andiamo a vedere proprio l'indice US dollar eccolo qui sullo US dollar si sta formando cavolo quanti disegni avevo perché lo avevamo analizzato qualche settimana fa allora guardate e qui vedete vi avevo disegnato questo test e spalle di inversione qua ok che infatti era stato rotto il mercato aveva formato stava formando questo secondo test e spalle un po' più piccolino di inversione ma invece sembra proprio che stia prendendo una posizione al rialzo tant'è che io vi avevo detto che ero più favorevole vedete che avevo messo qui quest'operazione long perché questo lo vedevo come un pullback per poi un rimbalzo su questa struttura e una persecuzione verso l'alto quindi sembrerebbe proprio che il dollaro americano stia proseguendo stia continuando ad irrobustirsi vediamo che cosa farà nelle prossime settimane qua probabilmente andiamo a vedere un attimo sul giornaliero perché probabilmente qua si è formato lo guardo lo vedo dalle candele sì un piccolissimo test e spalle guardate quasi mi vergogna a chiamarlo test e spalle però ci sta guardate questa piccola testa questa piccola spalla e questa seconda spalla e quindi qua abbiamo avuto la rottura questa sarebbe stata la neckline questa candela la candela di oggi rompe questa neckline e quindi farebbe pensare ad un rialzo ovviamente ci sono questi massimi che dovrà intorno ai 12.000 dovrà andare a scontrarsi prima di arrivare a superarli insomma di riuscire a superarli quindi rimaniamo in attesa di vedere che cosa succederà molto interessante la situazione azionaria americana l'azionaria inglese e il dollaro americano e passiamo un po' alle materie alle materie prime e poi voglio parlarvi invece dedicarmi un po' di più all'azionario perché vi ho fatto questa introduzione parlando di opzioni per farvi vedere che l'analisi tecnica è un po' passatemi anche la metafora che vi ho scritto nelle mail l'analisi tecnica è un po' come il parmigiano non sta bene ovunque quindi la si può usare sia per entrare a mercato in maniera diretta a seconda dei pattern che vengono individuati dei segnali che la price action ci sta dando ma si può utilizzare anche per altri tipi di strategie addirittura con altri tipi di strumenti finanziari io la uso molto anche con le opzioni quindi opzioni sull'azionario faccio soprattutto con acquisto di opzioni altrimenti uso l'analisi tecnica e i movimenti della price action anche per strategie di opzioni come credit spread o strangle quindi veramente con un diciamo conoscendo sapendo identificare a mercato pattern sapendo leggere la price action potete davvero fare tante cose mi viene in mente un'altra metafora ma da vegetariano vi dico la verità non è bellissima però mi viene in mente che l'analisi tecnica è un po' come poverino il maiale dove non si butta niente c'è questo detto del maiale beh l'analisi tecnica è la stessa cosa tutto quello che fate tutto quello che leggete ve lo ritrovate poi per tante altre possibilità ed opportunità andiamo a vedere finiamo con le materie prima prima di passare all'azionario andiamo a vedere lo zucchero perché lo zucchero l'sb quindi ssb è il il ticker lsb che cosa sta facendo allora guardate fatemi cancellare un po' di linee qui avevo detto che poteva andare a ribasso e effettivamente che cosa si era creato qua si era creato guardate c'era questa questa spalla qui allora sì c'era questa spalla qui questa seconda spalla e c'era questa che poteva essere una testa e effettivamente qua guardate c'è stata la rottura e io infatti che cosa avevo ipotizzato con lo zucchero in un precedente appuntamento di analisi tecnica questo impulso ribassista questo ritracciamento che avveniva proprio in questi intorno a questi valori qui si è formato anche questo piccolo testa spalla è stato rotto e adesso potrebbe continuare a ribasso il trend quindi adesso ci potrebbe essere un piccolo pullback un outside return sulla neckline per poi vedere il vero diciamo trend ribassista quindi molto interessante quello che si sta formando sullo zucchero e diciamo sta seguendo un po' le indicazioni che il grafico ci sta dando mi piace estremamente quando trovo così tante conferme nei grafici anche col passare delle settimane andiamo a vedere l'oro l'oro il gold e quindi gc come simbolo fatemelo trovare qua elencato ha formato eccolo qua gc andiamo a vedere sul settimanale perché guardate ha avuto un bel guardate qua che bel impulso ribassista e questo outside return molto profondo questo pullback che si sarebbe dovuto fermare qua per essere un vero pullback e quindi appoggiarsi sulla struttura precedente guardare a sinistra la rotta sembrerebbe che si sia poggiato su quella successiva su questa qui quindi potrebbe semplicemente aver allungato un po' andiamo a vedere dal punto di vista di Fibonacci dov'è che si è fermato questo pullback di mercato guardate perfettamente tra il 50 e il 61,8 quindi le chiusure di queste due candele si sono fermate proprio su questi su questi due valori e adesso ci starebbe vedere un possibile diciamo così ribasso di questo di questo di questa commodity di questa materia prima scusate stavo guardando un po' indietro a che cosa si poteva essere formato qui forse c'era un test spalle ma diciamo che la lettura è piuttosto chiara qui si potrebbe essere veramente una prosecuzione del trend ribassista adesso c'è questa struttura che incontrerà su questa potrebbe rimbalzare andare verso l'alto invece romperla e continuare con il secondo impulso quindi molto importante anche vedere che sta succedendo sull'oro non voglio parlarvi del crude oil ragazzi perché del crude oil vi parlo praticamente ogni settimana ma del resto è una materia prima così importante che è in grado di sconvolgere i mercati quindi non si può non parlarne ma non questa settimana voglio invece parlarvi del mercato azionario e soprattutto che cosa sta succedendo perché abbiamo visto gli indici vi ho fatto vedere che gli indici che cosa vuol dire che cosa mi aspetto io di vedere sui mercati azionari dei singoli delle singole aziende mi aspetterò di vedere quei trend rialzisti che nel paniere dell'indice danno quel movimento così forte infatti guardate qua Apple sul settimanale guardate che bell'impulso rialzista tra l'altro Apple finalmente è riuscita a rompere qua i massimi quindi diciamo che qui avremmo potuto qui ci stava c'è stata l'invalidazione anche di un pattern armonico fatemi un secondo vedere da qui a qui qui 0.61.8 ritracciamento sì c'è stata un'invalidazione il prezzo ha rotto e fatemi mettere anche un po' di medie mobili a me sapete non sono un grande fan degli indicatori però le medie mobili queste sono il moving average exponential quindi sono le medie esponenziali io ne metto tre a mercato a differenti passi a differenti periodi e sto attento nel momento in cui si verifica che cosa si verifica un cross quindi c'è la cosiddetta media lenta che taglia la media veloce e quella mediana in cui si è verificato qui e la candela chiude al di sopra delle tre medie quindi qua si è verificato io che cosa faccio in questi momenti vado a giocare di opzioni vado a lavorare con le opzioni quindi compro delle call a dei prezzi che si trovano al di sotto della candela che ha rotto e qua vedete guardate qua che bella che bella che bella operazione perché praticamente dopo questa candela c'è stato questo ritracciamento ma poi il prezzo è schizzato quindi io mi sono andato a beccare vi dico la verità mi sono andato a prendere questo impulso perché ho chiuso ho preferito chiudere qua sui massimi avevo paura che sentiva questa strategia ma qui guardate che bell'angolo che si è formato tra queste medie in particolare tra la media lenta e la media veloce qui ci sono tutti i presupposti perché possa continuare quindi qua potrei valutare ancora di mettere un'altra call in acquisto qui sopra adesso ci penserò nei prossimi giorni vediamo come chiuderà domani ma guardate posso farvi vedere adobe un'altra azienda che seguo anche adobe ha un forte trend rialzista anche adobe ha rotto i suoi massimi e invece adobe guardate mi ha dato tante soddisfazioni con le opzioni ragazzi guardate qua che bellissimo trend rialzista che praticamente è partito nel 2012 guardate non si è mai più fermato non solo qui praticamente ogni volta che toccava la media lenta la media esponenziale quindi ogni volta che toccava qui guardate qui c'era da prendere vedete qui acquistare una call qui acquistare una call qui acquistare una call guardate quante volte ogni volta che ha toccato la media lenta ancora qui e ancora qui qui per esempio si poteva aprire un'operazione nel 2014 e non fare altro che fare il rolling dell'opzione e continuare a guadagnare e quindi bellissima questo trend rialzista nel vi faccio vedere anche vi posso far vedere Amazon ma veramente siamo in situazioni analoghe guardate qua c'è stato un pullback un po' più profondo rispetto agli altri però è stato poi rotto da questa candela boom e adesso Amazon ha praticamente rotto ha creato un nuovo massimo e sta un attimo insistendo quindi qua guardate potremo vederla in questo modo impulso rialzista outside return eccolo qua copio e incollo questa linea ctrl c ctrl v e qui posso aspettarmi un bel impulso rialzista andiamo a vederci anche Fibonacci andiamo a vedere dove potrebbe arrivare tra il 141 e il 161 guardate che guardate che che bel impulso che potremo aspettarci da Amazon e anche qui dove siamo siamo di nuovo Amazon ha appena rimbalzato sulla media esponenziale quella più più lenta quella a 50 periodi ci ha rimbalzato e sta andando verso l'alto quindi anche qua perfetta come perché preferisco lavorare con le opzioni invece di entrare direttamente sul sottostante ovvero su Amazon ragazzi perché richiede margini estremamente minori l'opzione perché entrando su Amazon ogni azione di Amazon mi costa adesso 848 dollari invece posso aprire un'opzione per 3-4 dollari di premio quindi che poi devo moltiplicare per 100 perché ogni opzione sul mercato azionario muove 100 azioni quindi 3 dollari 4 dollari si moltipliano in 400 euro però posso veramente muovere con un margine nettamente minore posso muovere e soprattutto andare a usare la leva e a marginare molto sapete poi con l'acquisto di un'opzione il mio premio la vincita è praticamente infinita quindi potrei seguire il rialzo nel caso in cui ci sia un trend molto molto forte volevo farvi vedere anche Netflix e IBM perché visto che ci sono vi faccio vedere anche Baidu il colosso cinese perché vedete Baidu invece sta proprio in una situazione contraria qui si è formato un bel triangolo simmetrico e adesso siamo in una fase in cui questo triangolo simmetrico lo deve rompere tracciamolo da qui e quindi bisogna vedere è arrivato alla fine e vedete che anche guardate che le medie come stanno praticamente sono parallele qui c'è stato un cross quindi qui adesso siamo in una situazione in cui può verificarsi un trend rialzista e ribassista quindi io qui ho un alert su Baidu perché nel caso in cui si cominci un trend o ribassista non farò altro che comprare una put se c'è un trend rialzista non farò altro che comprare una call però volevo farvi vedere anche Netflix perché anche Netflix si sta comportando benissimo credo anche Facebook abbia rotto i suoi massimi eccolo qui guardate qua che bel trend rialzista anche qua cross di medie boom candela rialzista 2013 non è mai più tornata indietro a qualche volta rotto rimbalzato sulla media a 50 periodi ma sono stati veramente dei rimbalzi guardate una qua uno qua due qua proprio poche settimane fa e andiamo andiamo su voglio farvi vedere Netflix perché insomma mi ha dato molte soddisfazioni in passato NNN Netflix eccola qui ci sono riuscito anche Netflix guardate periodo grossa tendenza rialzista cominciata nel 2013 un po' di lateralizzazione qui ha formato un bel canale guardate un rettangolo ve lo faccio vedere così rotto in maniera forte c'è stato il cross delle medie trend rialzista di nuovo mercato laterale qui ha usato molto queste strutture su cui è rimbalzata adesso ha creato i suoi massimi storici sta tornando un pochino indietro se vado sul giornaliero lo vedete meglio eccolo qui sta semplicemente adesso qui potrebbe aver formato guardate un testa e spalla spalle testa seconda spalla dove questa è la neckline del nostro testa e spalle che praticamente è stata rotta dalla candela di oggi quindi qui potremo avere un trend ribassista anche se le medie vedete stanno piegando ma non c'è stato ancora nessun incrocio quindi stiamo ancora a guardare bene ragazzi scusate che mi sono dilungato un po' troppo ma volevo farvi vedere come l'analisi tecnica e la lettura del grafico ci può dare tantissime informazioni per poi andarle a diciamo ad applicare con strumenti diversi quindi l'analisi tecnica non è solo per le entrate a mercato dirette quindi andando a intervenire sul sottostante entrando short o entrando long ma anche con le opzioni addirittura io la uso anche l'analisi tecnica per entrare sullo spread trading quindi che dirvi se non approfondite lo studio dell'analisi tecnica approfondite la lettura della price action approfondite fibonacci approfondite i suoi livelli perché con questi pochi strumenti davvero non è tanta tecnica da imparare io nei miei corsi con sono moduli che durano qualche settimana sapete il mio percorso completo dura quattro mesi ma la parte sull'analisi tecnica e sui pattern armonici dura circa meno di due mesi un mese e mezzo circa tutti quanti i partecipanti degli studenti nel gruppo privato facebook ormai vanno con le loro gambe riescono a vedere le stesse cose che vedo io quindi veramente non è niente di difficile dovete solo fare un po' di occhio ma ve lo ritrovate poi per tantissime altre cose opportunità nel trading bene che dirvi se non augurarvi una fantastica un fantastico fine settimana e buon trading a tutti ciao